Il concetto di limite è alla base del calcolo infinitesimale e ha importanti applicazioni nelle scienze matematiche. La sua definizione formale si deve al lavoro di grandi matematici dell'età moderna, come Cauchy e come Weierstrass, e ha permesso di affrontare in maniera rigorosa svariati problemi legati alla controversa nozione di infinito. Tali problemi erano ben noti fin dall'antichità. Ad esempio, nel V secolo a.C., il filosofo greco Zenone di Elea formula una serie di paradossi sul movimento e sulla divisibilità della materia basati proprio sull'uso dell'infinito. Vediamo il cosiddetto paradosso della dicotomia. Supponiamo di voler percorrere una distanza s pari ad un chilometro. Per poter arrivare al punto finale, bisogna prima raggiungere il punto opposto a metà percorso, bisogna cioè coprire una distanza s1 pari a mezzo chilometro. Analogamente, per poter coprire la distanza rimanente, dobbiamo prima raggiungere il punto opposto fra metà percorso e il punto d'arrivo, ossia coprire una distanza s2 pari ad un quarto di chilometro, cioè 250 metri. In queste prime due tappe abbiamo percorso una distanza pari a s1 più s2 e siamo così giunti a tre quarti del nostro tragitto. Di nuovo, per coprire la distanza rimanente, dobbiamo prima raggiungere il punto di mezzo che ci separa dal punto d'arrivo. Questo significa che bisogna percorrere una distanza s3 pari ad un ottavo di chilometro, cioè 125 metri. Lo stesso ragionamento può essere ripetuto un numero indefinito n di volte, dove ad ogni tappa bisogna percorrere un intervallo di strada sn. La distanza totale ha una lunghezza data dalla somma delle lunghezze di tutti gli intervalli sn. Notiamo due fatti importanti. Il primo è che ciascuno degli intervalli sn ha una lunghezza finita e che la lunghezza degli intervalli diminuisce progressivamente ad ogni tappa, ossia mano a mano che ci si avvicina al punto finale. Più precisamente, la lunghezza di ciascun intervallo è una funzione del numero n di tappe ed è data da 1 fratto 2 elevato dalla n. Il secondo fatto degno di nota è che la procedura di suddividere il percorso totale in intervalli sempre più piccoli deve essere ripetuta infinite volte. Infatti, per percorrere tutta la distanza s è necessario che il numero n di tappe cresca all'infinito. Secondo Zenone, questo determina una situazione paradossale. Da una parte, la distanza totale da percorrere ha una lunghezza finita. Infatti, sappiamo che s misura un chilometro. Dall'altra, tale lunghezza è data dalla somma di un numero infinito n di lunghezze finite e dunque dovrebbe corrispondere ad una lunghezza infinita. Ne segue dunque una apparente contraddizione. Il paradosso della dicotomia portò Zenone a mettere in dubbio la realtà del movimento. Per completare tutto il percorso dovremmo infatti percorrere un numero infinito di intervalli e quindi dovremmo impiegare un tempo infinito per coprire un chilometro. Eppure l'esperienza ci mostra che non è così. Come è possibile? La soluzione del paradosso di Zenone viene fornita grazie al moderno concetto di limite matematico. Quando n tende ad infinito, la successione degli intervalli Sn tende a zero e questo fa sì che la somma degli intervalli Sn possa essere finita anche se è data da un numero infinito n di intervalli. Infatti, si dimostra che al limite per n che tende ad infinito, la somma degli intervalli di lunghezza 1 fratto 2 alla n è proprio pari ad 1, cioè un chilometro, vale a dire la lunghezza della distanza totale. Senza entrare nei dettagli delle nozioni di serie e successioni, il moderno concetto di limite ha numerose applicazioni nel campo dell'analisi, dove ci permette di studiare alcune funzioni ai bordi del loro dominio di esistenza. In particolare, in analogia con il paradosso della dicotomia di Zenone, vogliamo valutare il comportamento di una funzione a valori reali quando la variabile da cui la funzione dipende tende ad infinito. Consideriamo una generica funzione f di una variabile reale x, i cui i valori y uguali ad f di x appartengono all'insieme dei numeri reali. Il suo dominio, ossia l'insieme dei valori di x in cui f di x è definita, non comprende i valori più infinito e meno infinito. Possiamo allora chiederci quale sia il comportamento asintotico della funzione quando la variabile x tende ad infinito. Limitiamoci al caso in cui x tende a più infinito. Vogliamo sapere quale sia il limite di f di x quando x cresce indefinitamente, fino a tendere a più infinito. Se tale limite esiste, ci sono due possibili risultati. Il limite è un numero finito, oppure il limite risulta infinito. Da un punto di vista grafico, abbiamo queste due situazioni. Da un punto di vista formale, questa distinzione viene espressa attraverso due diverse definizioni. Si dice che il limite di f di x per x, che tende a più infinito, è pari ad un numero finito l, se per qualsiasi numero reale positivo ε, esiste un valore n di ε, tale che per ogni x maggiore di n di ε, il valore assoluto della differenza fra f di x ed L è strettamente minore di ε. Dato che ε può essere scelto arbitrariamente piccolo, questo significa che, oltre un certo valore di x, la funzione f di x rimane arbitrariamente vicina al valore limite L. Il grafico della funzione f di x tende dunque ad appiattirsi lungo la retta di equazione y uguale ad L, parallela all'asse delle ascisse, che viene detta asintoto orizzontale. Prendiamo, ad esempio, la funzione f di x uguale ad 1 fratto x più 1. Il limite per x, che tende a più infinito, è pari ad 1. Al crescere di x verso destra, la funzione tende ad appiattirsi al di sopra della retta di equazione y uguale ad 1. La sua distanza da questo assintoto orizzontale diventa arbitrariamente piccola. Si dice, poi, che il limite di f di x per x, che tende a più infinito, è pari a più infinito se, per qualsiasi numero reale positivo n, esiste un valore m di n, tale che per ogni x maggiore di m di n, il valore della funzione f di x è strettamente maggiore di n. Dato che il numero n può essere scelto arbitrariamente grande, questo significa che, oltre un certo valore di x, la funzione f di x supera qualsiasi valore finito. Prendiamo, ad esempio, la funzione f di x uguale x alla seconda. Il limite per x, che tende a più infinito, è pari a più infinito. Cioè, al crescere di x verso destra, la funzione tende ad aumentare sempre di più. Per ogni numero finito n è sempre possibile trovare un valore di x, per cui f di x è strettamente maggiore di n. Attenzione! Può anche succedere che il limite di una funzione per x, che tende a più infinito, non esista. È il caso, ad esempio, di funzioni periodiche, come il seno ed il coseno. Prendiamo, ad esempio, la funzione f di x uguale seno di x. Al crescere di x, la funzione continuerà ad oscillare fra i valori meno 1 e più 1. E quindi il limite per x, che tende a più infinito della funzione seno, non è definito. Il concetto di limite ci permette di trattare problemi tecnici e concettuali che richiedono l'uso dell'infinito matematico, come nel caso del paradosso della dicotomia. In particolare, questo strumento ci permette di dimostrare in maniera rigorosa che, quando esiste, il limite di una funzione può essere finito anche se la variabile da cui la funzione dipende cresce ad infinito.